Allora, per quanto riguarda questo corso che oggi si è tenuto, devo dire che sono rimasta molto contenta e soddisfatta per la professionalità di questa giovane ragazza di 6 anni, io ho di fronte, sia perché ci ha trasmesso tante conoscenze in più che lei ha, già il fatto di aprire un proprio bagaglio personale è una cosa non da tutti, spesso si tende a tenersi le cose che si sanno in più per se stessi senza divulgarle, invece questa cosa molto alla Socrate mi è piaciuta e mi è piaciuta anche la modella, bellissima modella. Sono riuscita a apprendere ciò che mi è stato trasmesso, l'unica cosa è che sicuramente ripeterò questo corso perché mi manca quella bella aria che si creava in classe sia con gli allievi sia con il docente, quindi spero che presto questa possibilità si riabbia e magari chissà ci rivedremo, chi la sa. Grazie Erika, sei dolcissima. Via, vai Marco, parla. È stato un grande corso di spalle e arti superiori, Federica nonostante la giovane età, perché ha 26 anni, ha già un'esperienza importante, soprattutto sa trasmettere il vero significato di far star bene le persone, questo sì, questi complimenti, complimenti a Diabasi perché è molto molto alta la professionalità.